Restano molto gravi le condizioni del sesto operaio coinvolto nell'incidente. Andiamo allora in diretta da uno dei nostri inviati, Giuseppe Lavegna. A te Giuseppe. Domenico Viola, 62 anni, è ricoverato qui alla Poleclinico di Palermo da ieri, da quando lo hanno portato i soccorritori in gravissime condizioni e tali restano anche oggi. La conferma è arrivata nel pomeriggio proprio dai medici, è ricoverato in terapia intensiva, intubato, gravissimi i danni che ha riportato. La Procura di Termini Imerese indaga sull'incidente, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, ha già ascoltato diversi testimoni, spera che le condizioni di Viola possano migliorare perché un testimone diretto di quanto accadute potrebbe fornire elementi decisivi per le indagini. Oggi è un giorno di dolore e di lutto per i familiari, gli amici e i colleghi delle cinque vittime, il racconto dell'inviata, Roberta Ferrari. Per le strade dei colori e della musica oggi c'è solo silenzio. Ballarò è un mercato, ogni giorno c'è festa qui, diciamo a Bagnia, in palermitano. Oggi siamo tutto in lutto. Era cresciuto tra questi vicoli Giuseppe Labarbera, 28 anni. È la vittima più giovane della strage di Casteldaccia. È morto, è un simbolo di Ballarò. Aveva sogni semplici Giuseppe. Per lui, interinale della società che gestisce le condotte idriche, Fognaria, in provincia di Palermo, la speranza era quella di un lavoro sicuro. Voleva dare un futuro ai due figli. Fra pochi giorni avrebbe festeggiato cinque anni di matrimonio. Era già nonno Epifanio Assazia, contitolare dell'altra ditta che stava lavorando sulla rete Fognaria. Con lui tre dipendenti. Roberto Raneri, 51enne, viveva nel Trapanese, la grande passione per il calcio, l'orgoglio per la figlia musicista. Aspettava domenica per festeggiare la comunione della sua bambina, San Cipirello, Giuseppe Miraglia, 47 anni. La quinta vittima è Ignazio Giordano, aveva 57 anni, viveva a Partinico. Ieri era uscito di casa sorridendo, ora non si dà pace il fratello Vincenzo. Mi metteva al corrente pure a me, dice stai attento quando fai questo lavoro, ti può succedere questo. Ero un esperto, che sia successo proprio a lui, ancora non riesco a crederci.